ciao a tutti in questo video vi voglio far vedere velocemente le mie tre borsette della desigual questa è la prima abbastanza piccola beige e quindi io l'adopero d'estate è abbastanza piccolina perché se la confrontante con questa si vede subito che questa è molto più grande questa è quella che uso in autunno e in primavera con le due tasche laterali molto capiente molto più di questa piccola che comunque ha tutte le sue tasche anche di qui e tutti i suoi divisori interni uguale a questa che sto adoperando adesso è molto pesante invece per l'inverno ho comprato questa della nuova collezione e sinceramente non so ancora com'è quindi si apre così a il magnete che si qui sul marchio e poi dunque si apre qui vediamo ma no ecco si apre da qui sotto ok è accalamita e quindi a una taschina qui sicuramente metterò le chiavi perché devo trovarle subito questa non ha le tasche laterali quindi sarà un bel problema mettere tutto qui davanti a portata di mano mentre dentro praticamente al divisore interno poi da questa parte a solito porta cellulare quello che volete mentre da questa parte c'è porto documenti e altro spazio ok poi si chiude così ha naturalmente la tracolla molto bella e questa la dopererò dal primo novembre per adesso vado avanti con questa che mi piace da morire da morire con i suoi colori autunnali è pienissima ragazzi pienissima anche dietro questa ha detto anche dietro troppo troppo piena quella estiva invece poverina è già vuota comunque ogni tanto la doperò ancora se voglio mettere soltanto poche cose avere una borsetta più leggera adoperò questa altrimenti questa per adesso tengo ancora questa poi per l'inverno userò questa speriamo che ci stia tutto quello che devo metterci ok grazie a tutte ciao ciao alla prossima ciao 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 ciao